Buongiorno e buon mercoledì. Allora, pollicione, se volete iscrivervi vi ringrazio, attivate la campanina per ricevere le notifiche e ringrazio tutti quelli che condividono, commentano e sostengono questo canale e ci aiutano a far crescere questo e secondo canale. Prima di tutto una nota sull'Adi, poi c'è una richiesta e mi sembra giusto rispondere in merito alle lezioni francesi. Approfitto di questi giorni perché questi sono giorni di transizione. La prossima settimana dovrebbero esserci, con lavorazioni penso il 12, cioè venerdì, e il pagamento, poi magari potrebbero fare anche il 15, sapete che con l'Adi non si è precisi mai, con pagamento il 15 o il 16, non si sa mai, delle lavorazioni di metà mese dell'Adi e poi si aspetterà appunto le lavorazioni di fine mese che dovrebbero essere anticipate di un giorno, perché se non ricordo male il 27 è un sabato, però anche lì avete visto il disastro del mese scorso, l'ho vissuto con voi, l'abbiamo vissuto con voi e per cui non date niente per scontato. Non ribadisco, ancora una volta non è l'RDC, ma la cosa su cui tengo a picchiare ancora e continuerò a picchiare perché è pericolosa. Non aspettate supinamente la chiamata degli assistenti sociali. Tampinateli. Tampinateli perché purtroppo è un elemento fattuale, non discutibile. Le due piattaforme GEPI e SISL non si aggiornano, non aggiornandosi quelle creano delle informazioni errate e su quelle informazioni l'IMS agisce. Per cui se loro non sono aggiornate ci andate di mezzo voi. Anche se voi avete fatto tutto, siete voi che poi ne prendete la responsabilità e le colpe, capite? Cioè voi non siete responsabili di niente, ma l'IMS vi scarica addosso la responsabilità di non aver fatto qualcosa che invece avete fatto. Cioè incontrare gli assistenti sociali, firmare i patti personalizzati e tutto quanto. Non è una cosa semplice e ve lo dico perché nel caso la cosa non venga risolta prima delle lavorazioni ordinarie, è lì che scatta la sospensione. È lì che scattano le procedure di sospensioni né peggiori. È vero che le sospensioni arrivano in qualsiasi momento, questo ve lo posso assicurare, però si tende tendenzialmente a concentrarle in quei momenti. Quindi se vi è arrivato un qualsiasi sms di quel tipo o mail andate subito all'IMS, andate subito agli sportelli IMS, non ai sindacati, andate subito alla fonte del problema che è l'IMS. Poi se c'è da fare una correzione si corre ai sindacati, ecco. Soprattutto perché ragazzi sapete cosa si va incontro adesso? Fra poco siamo già a metà luglio, comincia il periodo in cui la gente va in ferie e i sindacati diciamo che nel periodo di agosto non li trovi. Quindi si rischia altamente di, se la sospensione arriva alla fine di questo mese e poi ad agosto non trovate i sindacati, c'è qualche problema dopo a dover fare le pratiche per correggere la situazione. Quindi mi raccomando, stateli addosso e chiedete sempre agli assistenti sociali di darvi una conferma scritta, una conferma visibile che a voi avete sostenuto l'incontro. Nel caso l'IMS continua a fare, per così dire, vaccate, allora ragazzi si agisce per vie legali. Si agisce per vie legali perché è l'IMS che sta sbagliando, non lo dico tanto per dire, l'IMS perde il 90% delle cause che affronta perché sistematicamente sono errori loro, per dire che baracconata è questo istituto. E ora devo spendere due parole ringraziando il cugino Luke sulla questione delle elezioni francesi. C'è un altro argomento, magari qualcuno lo ha sentito sul canale dell'avvocato Catania, lo può aver letto in giro, tendenzialmente sui giornali di destra, perché come sempre, ve l'ho detto, la migliaccheria della mia parte politica, l'ipocrisia è palese, mi dispiace, è una situazione terribile che mi tocca personalmente, però non ne voglio parlare qui perché da una parte non è tanto di essere obiettivo, qui c'è poco da essere obiettivi, qui c'è da dire i fatti, non riuscirai a controllarmi. Ringrazio comunque il nostro console che ha già fatto partire la denuncia, a cui si aggiungeranno altre denunce, verso questa persona che non merita neanche di essere chiamata persona e mi fa girare veramente i coglioni che la mia parte politica, cioè la mia sinistra, stia facendo il pesce in barile. Perché quello che ha detto questa persona è più grave di quello che hanno detto quei deficienti beccati da fanpage. Quando dicevo che dalla mia parte c'è gente messa peggio, non lo dicevo tanto per dire. Chiuso questa parentesi, ha vinto Melancon, chiamatelo come volete, Melancon. Ora il programma che ha esposto dovrebbe rendermi felicissimo da persona di sinistra perché sono cose belle, belle, sì sì belle, belle sulla carta, belle sulla carta. Il problema è sostenerle. Cioè se cominci a fissare un tetto, ma un tetto minimo di stipendio a 1600 euro, devi sostenerlo quel tetto lì. Se forzi l'economia green a un livello tale da metterla come obbligo, quindi forzare la riconversione tecnologica di tutte le industrie, e ragazzi non stiamo parlando di briciole, stiamo parlando di miliardi, 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 miliardi. Beh viene in mente quello che disse Napoleone III, forse un ambasciatore, ma noi francesi non siamo bravi a fare le riforme, siamo bravi a fare le rivoluzioni. E lì il problema è questo. Qualsiasi ipotesi, qualsiasi idea deve essere economicamente sostenibile. C'è un motivo tra l'altro, perché io ho sempre appoggiato a spaziatratta l'RDC, anche perché era una misura economicamente sostenibile. A fronte di un paese che si fuma 100 miliardi all'anno di evasione fiscale, era una misura perfettamente sostenibile. Le misure che vuole mettere Mélenchon, permettetemi, per carità sarebbero bellissime, sarebbero bellissime. Non sto discutendo la qualità delle misure, cioè l'idea che c'è dietro. Magari discuto il personaggio visto certe sue posizioni, certe sue idee, un po' assimilabile a quella disgrazia umana di Corbin, vabbè, ma non a quei livelli comunque, ma gli inglesi quelli di quello sono. Però non so se sono economicamente sostenibili. Umanamente io sarei felicissimo di una transizione green, accelerata, per carità sarebbe una cosa bellissima, un tetto economico alto per consentire alle famiglie di respirare veramente, investire appunto nel lavoro, investire nella scuola, va tutto bene, ma devi dimostrarmi che sei in grado economicamente di sostenerle queste misure, perché sulla carta sono belle, strutturalmente sono complicate, sono complicate. Cioè, secondo me era meglio un'introduzione più graduale. Cioè, per dire, il green sbandierato da Melanchon, che fa il paio col green sbandierato dalla Von der Leyen, va benissimo, ma porca miseria, tu non gli puoi dire che una persona deve cambiare la macchina con una elettrica o ibrida e poi non trovi le colonnine per caricarla. Cioè, l'ho detto, un conto è il ragionamento ipotetico, cioè l'idea ipotetica che può essere la più bella del mondo. Un conto è la fattibilità. Io sono assolutamente a favore di un reddito universale, di un reddito planetario, perché universale mi sembra un po' da sboroni, per dire un termine bolognese. Sono assolutamente a favore, dire, però mi devi dire come lo vuoi fare. Perché dirlo è una cosa, mettono in pratica un'altra. Queste misure sono estremamente pesanti dal punto di vista economico. Io non so se la Francia in sé per se le reggerà. Perché ve l'ho detto, i francesi sono bravissimi a fare le rivoluzioni. Quelli sono campioni del mondo. Però il Napoleone, che manco era tutto francese, non è che ne nascono tanti in Francia. Se avete qualche dubbio andatevi a recuperare il video sulle cause della rivoluzione francese e vedete che macelli hanno combinato dal punto di vista delle riforme. Per quello che vi dico, il Corte civile è un capolavoro, perché effettivamente entra in problematiche che non venivano affrontate. Anche l'economia basica, cioè l'economia del proletariato. Per cui, va bene, va bene. Sicuramente molto meglio che avere l'ennesimo schizzoide a governare. Però, ragazzi, che siano applicabili e che siano sostenibili, quelli sono i grossi dubbi. L'idea buona c'è, la sostenibilità un po' meno. Io ho preso l'esempio delle auto elettriche. Ne parlavo con l'avvocato Catania, di persona, non sotto un video. In effetti ha ragione, la transizione non si può imporre alla gente. Anche perché se un'auto elettrica, uno scassone di auto elettrica, costa come un Mercedes, facendo le dovute proporzioni per dire, costa troppo per un operaio, mi dici come fai a fargli fare la transizione. Cioè, devono essere misure sostenibili. Io non so se queste misure saranno sostenibili dal sistema industriale francese, dal sistema imprenditoriale francese. Perché non vorrei che avessero come controreazione, sì, vabbè, io devo fissare 1600 euro di stipendio, però non ce la faccio a tenere tutti gli operai, qualcuno lo licenzio. Oppure, se mi forzi a tenerli, allora se non ci sto dentro, io chiudo. Così li licenzi tutti. Per quello io parlo sempre e ragiono sempre in termini funzionali, perché dovrebbe essere quella la politica. Quella. Ragionando proprio con l'avvocato, che ringrazio per la bellissima chiacchierata, purtroppo non è soltanto in Italia che la politica è degenerata. In Italia è degenerata dopo Mani Pulite, in cui sono arrivati prima gli uomini di spettacolo, cioè il fu Silvio e così. E poi sono arrivati gli scappati da Circhi e così. E in mezzo a quelli bravi, come io ho sempre detto, quelli bravi in mezzo a questa canea vengono schiacciati perché quelli che fanno più casino si appoggiano sui social. Mentre quelli che vogliono fare non si appoggiano spesso sui social, ma come si dire tirano su le maniche e si mettono a sgobare. Ma lavorare per il bene degli altri non fa audience. Mentre il far casino sui social lo fa. In fondo, ragazzi, basta vedere l'ultima dichiarazione della Ferragni in cui mistifica la realtà dei fatti. Basterebbe leggere la dichiarazione dell'antitrust e della Gcom per capire che sta mistificando clamorosamente. Però per le sue stronzate, chi ci è andato di mezzo? E' i dipendenti dei suoi negozi che stanno chiudendo. Del suo negozio che sta chiudendo. Vittime innocenti di una persona che ha fatto quello che ha fatto. Punto. Che è inutile che adesso venga lì a dipingersi come una brava persona. Non lo è. Punto. Anche se è stata santificata. Comunque, tornando e chiudendo sul discorso francese, è una una vittoria importante. Questo sì, frena una marea di distorsi che quelli francesi sono particolarmente nefasti, dai tempi di Pierre Laval, che sono bei personaggini quelli. Però, un conto è dire, un conto è le dichiarazioni di intenti, un conto è la sostenibilità di questi intenti. Una cosa su cui ho sempre picchiato, ve l'ho detto. L'RDC, nei suoi quattro anni di vita, è costato meno di un singolo anno di evasione fiscale. 34 miliardi contro 100 miliardi. Sull'arco dei quattro anni, l'evasione fiscale italiana, che ha avuto una media di 100 miliardi all'anno, aveva raggiunto 400 miliardi di evasione fiscale, sempre conti 34. Ma la responsabilità è stata sempre data all'RDC, ancora adesso la danno per la mancanza di dipendenti da parte del settore turistico alberghiero. Settore in cui si pratica letteralmente lo sfruttamento lavorativo, con l'imbeneplacito e silenzio dei partiti di tutta la banda, perché ve l'ho detto. Cos'è successo? Si sono svegliati per quel povero operaio indiano e adesso è tornato tutto come prima. Grandi urla, grandi strepiti e poi silenzio di tomba. Di là è ovvio che ci sia silenzio di tomba perché non gliene frega niente. Ma da noi, da noi, perché ve l'ho detto, c'era la possibilità di fare il salario minimo, ma non l'hanno boicottato fratelli d'Italia. L'abbiamo boicottato noi dentro col PD. È stato il PD a boicottarlo. Infine ragazzi, se volete farvi due risate, mi è capitato di vedere la pubblicità del 2x1000 della ricottara. Non ce l'è, c'è un tizio che, mamma mia, va bene tutto, ma cosa siamo all'accattonaggio istituzionale? A un povero scemo che si ricorda a memoria i codici da inserire e vuole controllare sul terminale mentre chi fa la dichiarazione lo scrive, per favore, un po' di rispetto per l'intelligenza degli italiani. Io non chiedo tanto, eh, ma penso che l'Italia sia un paese che me... è un paese che non merita il governo che ha. Il problema è che se lo ha scelto. E non lo hanno scelto tutti gli italiani, non ha scelto una minoranza. Ciao a tutti, gente!